E' un momento positivo per la Calabria e i suoi viaggiatori con l'annuncio di Trinitalia riguardante l'arrivo di ben 27 nuovi convogli destinati alla Regione. Questa notizia porta con sé la promessa di miglioramenti significativi nel trasporto ferroviario locale grazie all'introduzione di un nuovo treno blues e di un nuovo treno pop che solcheranno i binari della Regione. L'importanza di questo investimento viene sottolineata nella nota emessa evidenziando il ruolo cruciale del contratto di servizio con la Regione Calabria e Artcal. Questo contratto mira elevare l'offerta di servizi per i peandolari e i viaggiatori con un budget complessivo di oltre 300 milioni di euro di cui 210 milioni destinati al rinnovo della flotta e circa 140 a carico della Regione Calabria. La consegna dei 27 nuovi treni composti da 14 pop a 4 carrozze e 13 blues a 4 carrozze segna un punto di svolta nel rinnovamento della flotta ferroviario calabrese abbassando l'età media dei treni da 29 anni nel 2018 a soli 9 anni entro il 2026. Il treno blues, il quinto ad essere introdotto sui binari calabresi sarà protagonista sulla linea ionica da Reggio a Sibari e sulla trasversale Catanzaro-Lido, la mezzia terme centrale. Progettato e costruito dai touchy rail, il blues rappresenta un balzo generazionale nell'innovazione tecnologica potendo operare sia con motori diesel su linee non elettrificate sia con motore elettrico su quelle elettrificate sfruttando anche le batterie per i tratti non elettrificati o durante le soste nelle stazioni. Questo approccio ibrido consente una significativa riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 contribuendo ad una mobilità più sostenibile. Inoltre il treno offre circa 300 posti a sedere e può ospitare fino a 12 biciclette. Il treno POP, l'ottavo ad essere introdotto nella regione, invece sarà operativo sulle linee elettrificate Cosenza-Reggio, Cosenza-Sabri, Sibari-Cosenza e Melito-Portosalbo-Villa-San Giovanni. Caratterizzato da un'elevate riciclabilità fino al 97% e una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti, il POP si distingue per gli elevati standard di affidabilità e sicurezza. Dotato di telecamere e monitor di bordo per le riprese live, questi nuovi treni consentono di trasportare fino a 500 persone con circa 300 posti a sedere, offrendo un livello di comfort senza precedenti. In conclusione, l'introduzione di questi nuovi treni rappresenta un passo in avanti significativo per il trasporto ferroviario calabrese, non solo in termini di efficienza e prestazioni, ma anche in termini di sostenibilità ambientale e comfort per i passeggeri.